Temptation Island. Martina e Carlo insieme. Le foto che tolgono ogni dubbio. Ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale Quest'ultima edizione di Temptation Island ha portato forse ancor più delle precedenti a molti addi e ad altrettante frequentazioni fra fidanzati e single Arrivati al villaggio per mettere in gioco i propri sentimenti, ben presto diversi protagonisti si sono resi conto che in gioco c'era anche la loro attrazione verso altri E fu così che Lino dopo il 2 di picche di Alessia è emigrato verso la sua tentatrice Maika Vittoria una volta essersi detta addio con Alex ha iniziato a frequentare il single Simone Il quale è anche apparso insieme a lei nel video ufficiale con le parole dell'ex coppia un mese dopo l'avventura nel programma Gaia è stata paparazzata insieme al tentatore Jakub Bakur Gaia aveva lasciato il falò di confronto insieme a Luca Ma una volta spente le luci dei riflettori le cose fra la coppia hanno continuato a non andare nei migliori dei modi Gaia ha deciso di interrompere la loro relazione e ricominciare da se stessa Che in questo suo nuovo inizio ci sia anche il bel tentatore Arriviamo a una protagonista incontrastata dell'undicesima edizione di Temptation Island, ovvero Martina Il suo percorso all'interno del villaggio sardo è stato scoppiettante A volte anche troppo per il suo ex fidanzato Raoul che nel pinnetto ha lanciato sedia e altro Arrivata nel reality per far capire al suo fidanzato che la sua gelosia era infondata e che doveva fidarsi di lei Martina ha subito legato con Carlo Già volto conosciuto al pubblico per aver corteggiato a uomini e donne Manuela Carriero L'ex tronista che deve la sua popolarità, dalla serie Corsi e ricorsi storici, proprio a Temptation Island L'affiatamento fra Martina e Carlo è stato un crescendo puntata dopo puntata L'addio a Raoul, che non ha negato di essere ancora innamorato della donna Al falò di confronto finale è stato naturale e per il pubblico del docu reality anche scontato Ma come procedono ora le cose fra Martina e il suo tentatore? I due hanno continuato a vedersi una volta lasciate le telecamere Dal video che ha iniziato a girare sui social la risposta non potrebbe che essere fragorosamente affermativa Mentre i maschietti facevano serata con alcune tentatrici, anche i tentatori ieri si sono concessi un'uscita in discoteca Fra questi anche il bel Carlo avvistato insieme a Martina E tu, cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti Scriviti al canale per restare sempre aggiornato